Ormai il mondo del web, il mondo di questo sistema diffuso per tutto il mondo attraverso la telematica e l'informatica è per tutti. Certo, per loro che sono nati insieme con questo sistema, si può dire che è come se ce l'avessero nel DNA. Per noi siamo un po' gente che ci è andata a cercarla e per noi rimangono più uno strumento, mentre per loro probabilmente è proprio un modo di vivere, cioè che si dilata tutta la vita e a tutta la persona, a loro sentire, a loro apprendere, a loro volere. Cosa si può fare brevemente? Cosa si può fare? Beh, anzitutto io credo che dal punto di vista nostro di pigliare coscienza di questo mondo e di cercare di capirlo più che si può. Secondo, nei confronti dei figli in casa, più che negare o proibire, cercare di essere vicino a loro per poter in qualche modo, per un verso sentire da parte loro che noi siamo comprensivi della loro vita virtuale e che è qualcosa che ci interessa e quindi portare un po' alla fiducia tale che loro si possano mettere in dialogo con noi su queste questioni e non vivere quasi una doppia vita che con noi si relazionano per certe cose e poi a parte si relazionano col mondo web per loro conto e senza intervento dei genitori. Credo che c'è da fare più l'alleanza che non invece la negazione, oppure sì, certo il controllo, ma non quello esasperato e quello oppressivo, ma quello che dice che bisogna crearsi buone abitudini di vita come lo facciamo per altre cose, come diciamo se stiamo a pranzo stiamo tutti a pranzo, così usiamo del web in certe ore, in certe altre no.